Un incidente stradale si è verificato oggi poco prima delle 13 lungo la provinciale della Valle Seriana nei pressi del distributore di carburanti del Ponte del Costone, in territorio di Casnigo. Una golf diretta verso l'Alta Valle Seriana, condotta da un uomo di 34 anni di Gorno, è stata tamponata da un Iveco Daily guidato da un settantenne di Ardesio. Sul posto è intervenuta un'ambulanza del Corpo Volontari Presolana per soccorrere una donna di 59 anni che si trovava sulla golf e che è stata portata in ospedale a Piario. Le sue condizioni comunque non sarebbero gravi.